Per me è un carico Tu fai un'analisi di tutto quello che stai a parlare tu hai 80% del gluteo Sì, sì Io non ho mai sentito nessun problema con il gluteo Mi piace la mamma Sì, sì No, questo è capito Merga Questo è un duplo desafio Per tirare Sì No Fattene Sì 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 Sì